Per attivare il livello 2 di Speed con l'applicazione Aruba OTP, accedi alla pagina selfcarespeed.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il nome utente, la password della tua identità Speed e clicca su Accedi. Dal menu a sinistra seleziona la voce Gestione credenziali. In corrispondenza di Aruba OTP Mobile, clicca su Attiva. Conferma l'attivazione dal pulsante indicato. A questo punto, il sistema invia un SMS al numero di telefono associato alla tua identità Speed. Inserisci il codice ricevuto nel campo Codice di verifica. Clicca sull'icona a forma di occhio per visualizzarlo in chiaro. Poi, clicca su Prosegui. Se non lo hai già fatto in precedenza, scarica l'applicazione Aruba OTP. Accedi allo store del tuo dispositivo mobile, cerca l'app Aruba OTP ed installala. Poi, da questa schermata, clicca su Prosegui per continuare. Alla pagina Crea un account Aruba OTP si visualizza il nuovo codice di attivazione da utilizzare per la creazione dell'account. Per procedere, apri l'app Aruba OTP. Clicca su Crea un nuovo account. Scansiona il codice cliccando sopra l'icona QR Code posta a destra del campo Codice di attivazione o inserisci il codice manualmente. Ti consiglio di inquadrare il QR Code. In questo modo, gli altri campi saranno compilati automaticamente. In caso di inserimento manuale, nel campo Descrizione inserisci il nome utente Speed. Poi, clicca Attiva in alto a destra. Ritorna nella schermata Crea un account Aruba OTP e clicca su Prosegui per ultimare la procedura. Nel campo OTP inserisci un codice OTP generato con l'app. Il codice ha una validità di tempo limitata. Dovrai inserire il codice OTP generato con l'app entro la tempistica indicata all'interno del cerchio, altrimenti la procedura non è conclusa e non potrai utilizzare il tuo Speed per accedere ai portali delle pubbliche amministrazioni e privati aderenti. Clicca sull'icona a forma di occhio per visualizzarlo in chiaro e clicca nuovamente su Prosegui per completare la configurazione. La configurazione è avvenuta con successo. Clicca su OK per chiudere la schermata. L'operazione è terminata. L'app Aruba OTP Mobile è stata attivata. Adesso puoi continuare ad utilizzare la tua identità Speed. endavanti Personerebbe Windowserebbe Per chiuderebbe Per chiuderebbe Magistrania